Con un tocco calibrato, Atton spedisce il pallone in verticale sulla sua testa, anche se non riesco proprio a capirne il motivo. Con un grande salto, Atton supera tutti i giocatori della mambo che lo circondano. Amico! E con uno splendido scatto di reni colpisce la palla inrovesciata. Atton incredibile! Il tiro però ha una difficile angolazione, la palla non entrerà di certo in porta. Bravo Oliver, ci hai fatto vedere un'azione veramente splendida. Purtroppo per te però non servirà a niente, l'angolo è troppo stretto. Sei stato sfortunato. La palla si sta dirigendo verso Ross, che si prepara a respingerla. Un momento, sta sopraggiungendo il numero 11 della New Team. Becker si tuffa e colpisce il pallone di testa. Ed è il gol! Con questo magnifico intervento, Becker porta la propria squadra al pareggio. Del Piero che è in trenare di rigore, Del Piero salta Gattuso, poi prova a mettere a centro, non ce la fa ancora. Del Piero per Trezeghe! Davi! Tre, Se, Ghe, 1-0! Ma che crosti del Piero! Pensavo avesse perso il tempo del Piero perché poteva calciare a giro di destra, è rientrato, è stato rimpallato il tiro e poi si è inventato questa rovesciata. Qui Dida non ha trovato il tempo perché Trezeghe è molto bravo nell'area piccola ad anticipare di testa e a mettere dentro questa palla. Incredibile Trezeghe! Trezeghe rientra con il Real Madrid, 20 minuti gol, rientra contro il Milan, 27 minuti gol. Il 50 del Piero qui, grande rovesciata. Maldini si è staccato un attimo dalla marcatura di Trezeghe perché gli era partito alle spalle camoranesi, mi sembra, e qui Stano secondo me non era lui in posizione.